Buonasera e bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio. Sono iniziati questa mattina gli esami di maturità. Qualche difficoltà per alcuni docenti. Ad Arezzo sono stati 139 quelli che non si sono presentati, che sono stati sostituiti all'ultimo momento. 3.023 gli studenti alla prova. Sono 162 le classi che hanno affrontato la prima prova di maturità. Con loro 738 docenti farà commissari interni ed esterni. In serata un servizio approfondito su questo importante giorno per gli studenti. La promozione turistica viaggia a bordo dei taxi. Cittadini, ecco il van a nove posti per turisti. È non nato dalla sinergia tra cooperativa Arezzo Taxi e Fondazione Arezzo Intour. Si amplia l'offerta dei trasporti per turisti e cittadini. Grazie all'accordo tra cooperativa Taxi e Fondazione Arezzo Intour è in servizio un nuovo mezzo. È un mezzo a nove posti dove potrà accompagnare i turisti che arrivano sempre maggiormente all'interno della città, all'interno del comune, dove desiderano andare nei vari turismi che sono dislocati qui intorno. Un turismo sportivo che aumenta sempre di più. I giovani, i ragazzi che vorranno andare in discoteca. Oltre al trasporto delle persone, il van ha anche un'ulteriore funzione. Pubblicizzare la città stessa con le vetrofanie che abbiamo di Piazza Grande e tutte le varie informazioni che possono avere i turisti tramite il QR code. C'è anche poi l'applicazione che è stata potenziata, anche questo è uno strumento in più a disposizione degli utenti e non solo. Sì, abbiamo questo nuovo dispositivo per lavorare. È un'applicazione collegata con la centrale operativa del nostro call center che è a Milano, Taxi Blue Milano. E dunque arriva la telefonata lì, l'operatore inserisce dati e ricerca il taxi libero più vicino al cliente o il taxi occupato che si libera in un minor tempo. In più abbiamo anche l'applicazione app Taxi gratuita dove il cliente la può scaricare, non passa dal centralino ma viene localizzato il cliente in base a dove si trova e il taxi automaticamente arriva sempre più vicino. Lo potremmo definire un mezzo a vocazione turistica? Assolutamente sì. Abbiamo fatto un accordo che sì, prevede la personalizzazione, la sponsorizzazione del mezzo ma anche tutta una serie di servizi che la cooperativa Taxi renderà alla fondazione Arezzo in Tour e ai turisti soprattutto. La cronaca padre e figlia di 19 anni gravissimi in ospedale dopo uno schianto avvenuto ieri sera sull'Ai45 in direzione nord tra Montone e Promano. I due che viaggiavano in sella ad una moto sono rimasti feriti in uno scontro con un'auto, nell'impatto è stato coinvolto anche un camion, padre e figlia, entrambi di città di Castello sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. La ragazza è rimasta incastrata sotto l'auto, sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge, il 118 per i soccorsi. La ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, il padre invece all'ospedale di città di Castello. La pagina politica nel PD cortonese non c'è un'atmosfera tranquilla e non solo per la posizione espressa da Andrea Vignini, l'attuale capogruppo Andrea Bernardini non è contento di come stanno maturando le cose. Se Atene piange anche Sparta non ride ad un anno dal voto, lo scattiere politico di Cortone è quanto mai un magma in continua evoluzione. A destra è noto che il sindaco Luciano Meoni sia ormai un corpo estraneo, i rapporti di fatto sono da separato in casa nell'attesa della fine della legislatura. Meoni dribbla sulla questione e ora pensa solo al cinquecentenario di Signorelli, mentre il centrodestra nelle sue varie espressioni è ormai deciso a giocare le sue carte in maniera differente rispetto all'appuntamento della prossima primavera. Conoscendo Meoni dubitiamo che se ne resti in un angolo e di sicuro il sindaco, che è un combattente nato, ha pronta la sua lista come ha fatto in altre occasioni. Un quadro che potrebbe favorire le opposizioni, ma non è così. In casa PD i rapporti sono più tesi di una corda di violino. La disponibilità manifestata da Andrea Vignini, rientrato da poco alla casa madre, non ha avuto una risposta dal vertice cortonese, che si sta muovendo in altre direzioni. Nei giorni scorsi si è tentato addirittura un approccio con il direttore del MAN Paolo Giulierini, personaggio di spicco di Cortone, ma impegnato in altre situazioni. E non è un caso che il suo museo non faccia parte di quelli che dovranno cambiare direzione. La mossa non è piaciuta soprattutto al capogruppo del PD Andrea Bernardini, che non è stato messo al corrente dell'iniziativa promossa dalla segreteria. Intanto Vignini aspetta e se non avrà una proposta per le primarie, di sicuro giocherà le carte per conto proprio. Serata di festa di Arezzo alla Fortezza Medicea, infatti ospitato aperitivo in fortezza, evento promosso dalla regione, Fondazione Sistema Toscana, Toscana promozione, la nazione con la regia di Confcommercio. Dopo il taglio del nastro a Firenze, l'aperitivo d'estate è entrato nel vivo con la serata ospitata nella Fortezza Medicea. Un percorso stimolante tra gusto, musica dal vivo e visite guidate dalle 18 ore 23. Arezzo dunque ha accolto in una serata mite d'inizio estate la quarta edizione dell'evento. Protagonisti della serata sono stati ristoratori e baristi aretini, con un menù ispirato ai piatti della tradizione culinaria toscana. L'aperitivo Sottorestelli ha potuto fare leva anche sulla musica in un connubio ben riuscito con la gastronomia. Il tutto è stato arricchito dall'apertura straordinaria dei locali della Fortezza, che sono stati raccontati dalle guide turistiche di Confcommercio. Si potrà andare in totale sicurezza in bici da Monterchi a Sansepolcro. L'annuncio è stato dato dal Presidente dell'Unione dei Comuni Romanelli e anche dal Sindaco di Andieri. Momento importante per la ciclovia di cui si parla da anni tra Sansepolcro e Monterchi, perché dopo il progetto è il momento dell'inizio dei lavori, quindi della realizzazione. Ne parliamo con il Presidente dell'Unione dei Comuni, ex Comunità Montana, nonché il Sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli. Si comincia. Oggi c'è la consegna ufficiale dei lavori per la costruzione della ciclovia dalle ville di Monterchi a Sansepolcro. Un importante progetto percorrendo quello che era in gran parte la vecchia ferrovia, laddove è possibile, dove non è possibile ovviamente sono stati ideati dei percorsi alternativi. Comunque è un progetto sul quale tutta la Valtiberina, soprattutto i tre comuni, Anghiari, Monterchi e Sansepolcro, ci tengono molto e oggi iniziamo questo percorso importante. I primi 600 mila euro che sono stati investiti in questo progetto. Alessandro Polcri, Sindaco di Anghiari, Presidente della provincia di Arezzo. Sì, diciamo innanzitutto per me è una punta di orgoglio perché, lo ricordavo prima, come Presidente dell'Unione, fu colui che mise delle risorse importanti col bilancio dell'Unione per valorizzare questo progetto della ciclovia. La cosa positiva è che siamo riusciti, grazie ai progettisti, a valorizzare il vero tracciato della ferrovia e credo che sia anche questo un elemento importante, soprattutto identitario. Tutti per il fiume, un fiume per tutti è lo slogan che ha accompagnato il Baby River Day lungo il Torrente Chiazza, un'iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica che ha coinvolto più di 300 ragazzi. Si chiama Baby River Day, l'evento clou della festa di primavera, il luogo è quello del Torrente Chiazza. L'appuntamento è tornato ad animare gli argini del corso d'acqua dopo tre anni di stop forzato causa pandemia. Oltre 300 bambini delle scuole materne ed elementari delle frazioni di Antria, Ceciliano, Chiazza, Giovi e Tregozzano hanno trascorso la giornata sul Torrente nel Baby Villaggio, costruito e animato proprio da loro. Un progetto che vuole rideterminare e sottolineare qual è l'importanza e il rispetto che dobbiamo avere dei corsi d'acqua, che è una risorsa, della quale però dobbiamo anche smerla. Questi progetti servono per educare i cittadini e quindi chi è meglio dei bambini, che sono i cittadini di domani, a questi valori. I bambini sono molto motivati, sono partiti un po' stanchi perché non sapevano effettivamente cosa devono fare, poi li abbiamo aiutati, ognuno gli dava una mano a costruire, a imparare a fare gli spaventapasseri, a imparare a fare le capanne, a imparare a fare l'orto per il villaggio. Sì, noi siamo i Pirbi Verdi del centro di aggregazione di Tregozzano, però c'è anche il circolo della Chiazza, il circolo di Giovi, siamo la comunità educante della valle del Chiazza, un'idea che è venuta con il progetto intorno al fiume Chiazza, vorremmo mettere insieme tutte le associazioni, il terzo settore, le parrocchie e le scuole, perché crediamo che intorno a un piano ambientale si possa fare comunità, associazionismo e tutte cose, che a noi piace farlo così. Il tour della terza commissione regionale della sanità è giunto all'ospedale del Casentino per verificare luci ed ombre. La terza commissione sanità della regione toscana ha visitato l'ospedale del Casentino di Bibbiena, incontrando professionisti, direttori e sindaci della vallata per fare il punto sulle necessità di questo territorio. Abbiamo trovato un ospedale con un bel sistema di investimenti previsto, con tanti medici e personale sanitario molto motivato, ovviamente c'è il tema di trovare personale mancante, di trovare turnover dei medici che se ne sono andati. È colmato per la verità in parte dal grande senso di appartenenza dei professionisti che qui troviamo molto più forti rispetto ad altre parti della Toscana, però è un problema reale e che è difficile anche da colmare se non con un sistema di incentivi. L'assessorato sta studiando, speriamo che anche dal livello governativo arrivino dei meccanismi incentivanti forti. In commissione abbiamo mostrato i dati di attività dell'ossamento ospedaliero che hanno evidenziato come l'attività complessiva dell'ossamento ospedaliero si è mantenuta, anzi in qualche caso ha superato quelli che erano i volumi storici che normalmente venivano fatti nello stabilimento, dimostrazione questa che è un ospedale che continua e ha voglia di continuare a lavorare e questo ovviamente va reso merito ai professionisti che tutti i giorni operano all'interno dello stabilimento. Sicuramente c'è l'impegno di una grande comunità professionale come quella che opera qui nell'ospedale del Casentino. Nel nostro territorio c'è un sistema di organizzazione sanitaria che è ben strutturato, lo possiamo dire, a livello di contenitori perché c'è un presidio ospedaliero importante per tutta la vallata, ci sono tre case della salute, diventeranno quattro a breve, c'è un distretto sanitario importante ma a livello di contenuti c'è bisogno di un cambio di passo. Parliamo di calcio, la mancata iscrizione del Siena al prossimo campionato di Serie C fa perdere uno dei derby più attesi dalla tifoseria Amaranto e già sui social arrivano gli sfottò. Dunque niente derby con il Siena alla cui mancata iscrizione al campionato fa saltare i piani anche da altre società che speravano nella riammissione. Il giochino è sempre intricato visto che la documentazione presentata dalla Robur non era completa. Il caso del Siena non è certo isolato visto che già il Pordenone ha rinunciato alla terza serie dopo aver istiato di salire in Serie B. Il Mantua è già stato ripescato mentre altre squadre sono sulla soglia in attesa di un segnale dalla Liga Pro. E dopo la Juve anche un'altra società del massimo campionato potrebbe stierare una squadra in Serie C Under 23 e gli indizi sono tutti per l'Atalanta che addirittura potrebbe finire nel Girone B, quello dove verrà inserito l'Arezzo. Niente derby con il Siena e già si sprecano i commenti sui social della serie Morse tua vita mea. Ma forse non è giusto ragionare in questi termini. Siena paga vecchie colpe ma alla fine come è accaduto ad Arezzo sono sempre i tifosi che poi scontano il tutto. Il derby ha un suo fascino ed ha un senso al campionato e attenzione perché il Perugia potrebbe essere anche ripescato in Serie B. In ogni caso queste potrebbero essere le avversarie degli Amaranto. Carerese, Lucchese e Ponte d'Era per le Toscane, Atalanta Under 23, Olbia e Torres, quattro Marchigiani e ancora Fermana, Re Canatese e Vispesaro, due Umbre, Gubbio e Perugia, quattro Emiliano Romagnole, Cesena, Spalle, Rimini e Fiorenzuola, due Liguri, Sestri, Levante, Neopromossa e Virtus Centella. E chiudiamo ricordando gli appuntamenti di questa sera dopo il nostro telegiornale Spazio Newsline 9.10, poi lo Spazio Salute a seguire, chilometro lanciato in primo piano il giro del Montalbano di Macchereto, classica Elite Under 23, la rubrica di ciclismo a cura di Fabrizio Massimo Biondi e tra l'altro questa è una corsa molto cara al nostro Fabrizio, visto che nel 1962 si piazzò al quarto posto in questa competizione. È tutto, prossimi appuntamenti con informazioni alle 19.45 con il Tg Centro, poi ci vediamo alle 20.30, buonasera.